e ciao ragazzuoli benvenuti e ben ritornati qui nel mio canale io sono ric allora breve video per andare a vedere anzi a fare il consueto quello che spero diventerà una consuetudine opening pack dei poveri quindi andiamo a vedere un po se nei pacchetti ultimate team oro dati in omaggio con l'edizione ultimate team più i codici dati con il preordine e quindi due pacchetti a settimana per un bel po di settimane riusciamo senza spendere un euro a trovare qualche giocatore interessante se sia effettivamente possibile quindi trovare dei giocatori forti oppure è scritto che comunque con i pacchetti ultimate team dati in omaggio non si riesca comunque trovare nulla andiamo un po vedere nei discorsi video abbiamo trovato solo giocatori che al massimo arrivavano a un 77 78 forse 1 78 non ricordo bene allora andiamo al negozio andiamo a vedere i pacchetti i nostri due pacchetti andiamo a scartare il primo vediamo che cosa togliamo dentro e 79 attenzione fernandez abbiamo detto che al massimo che abbiamo trovato era un 78 quindi già partiamo bene evidentemente il gioco con la playstation camera che al microfono mi ha riconosciuto ha riconosciuto il mio scetticismo allora ha detto beh dai diamogli qualcosa di più e 77 77 quindi siamo nella media alta dei pacchetti trovati fino adesso in quanto a giocatore abbiamo un contratto che è un oggetto raro almeno così dice quindi intesa portiere gatto applica questo oggetto che suona ok vabbè cosa vuol dire questo che sarà il potere sarà salterà di più sarà più in gamba non lo so fatemi sapere abbiamo anche un arbitro no no non è un arbitro che cos'è questo un preparatore si l'arbitro no mi tenevo dire l'allenatore scusate non so cosa sia ragazzi allora vabbè ok dai inviamo tutto nel club quindi inviamo tutti nel club andiamo a vedere il secondo pacchetto andiamo e vediamo che cosa succede 76 iguain o sbaglio iguain che però non sarà quello non so se ci sia un altro iguain penso di sì perché quello che conosco io è diverso quello che ho visto quello che tra l'altro c'è anche nella copertina se non sbaglio del gioco abbiamo un 75 e 2 non so se si pronuncia così iguain che è un 76 che è un 65 ok ed è l'oggetto raro è ovviamente un contratto perché figurarsi se la divisa ok inviamo tutto a club ok andiamo a vedere la mia rosa ragazzi ho fatto qualche movimento sono un 57 di intesa ma partivo da un 48 prima se non sbaglio almeno l'ultima volta che l'ho vista ho fatto un po' di trasferimenti approfittando della companion app sul cellulare quindi chi non l'avesse scaricata ragazzi scaricatela perché è comoda quindi in mobilità potete fare potete gestire insomma l'ultimate team di fifa ok quindi ditemi vi faccio vedere anche il club i miei giocatori ah era un 79 ragazzi quindi siamo al pari con fernandes però fernandes però è un giocatore raro o comunque ha la dicitura rara ed è un oro se non sbaglio questi sono tutti i miei giocatori ve li faccio vedere ragazzi se avete consigli datemi pure per aumentare l'intesa del club così magari potremmo farci delle partite in cui io sarò leggermente meno come si può dire rimbambito in quanto in quanto ero una squadra leggermente appena più forte insomma datemi una mano voi se no se faremo delle partite insieme giocherete proprio con un con un benomato perché non sono veramente in grado ok qua adesso andiamo verso la fine bene ragazzoli questo ben o male questo ben o male era la mia la mia squadra ve la vi faccio vedere ve la lascio qui datemi dei consigli così che insomma sicuramente voi siete più esperti come al solito vi ringrazio per aver seguito questo video questo unboxing scusate questo non unboxing non hai son preso gli unboxing in questi giorni questo opening pack dei poveri in attesa di trovare magari qualche super giocatore con i pacchetti omaggio senza spendere un soldo vi ringrazio per il mi piace e non mi piace che insomma se volete metterlo mi raccomando commentate per dimmi la vostra e noi ci vediamo al prossimo video ciao ragazzuoli